Il Consiglio regionale ha approvato la mozione del Movimento 5 Stelle sulla proposta di dare la possibilità alle famiglie degli studenti lombardi di scegliere se usufruire del servizio mensa oppure se portarsi il pranzo da casa. Siamo con Omar Fascella che insieme al capogruppo Caterina Grimaldi aveva sposato la causa attraverso una raccolta firme che si era svolta davanti ad alcune scuole materne ed elementari della città, tra cui la Dante Leghieri, dove tra l'altro siamo proprio in questo momento. Fascella, buongiorno. Prima di tutto, cosa cambia nel concreto per i cittadini? La Giunta regionale si è impegnata a sollecitare le amministrazioni comunali a dare la possibilità agli studenti di portarsi il pranzo da casa in alternativa a quello offerto dal servizio di mensa scolastica, dando anche linee guida per una corretta alimentazione, quindi c'è anche una finalità educativa per le famiglie. Quindi in un qualche modo il Comune, in questo caso il Comune di Voghera, dovrà regolamentare questa possibilità, è così? È così. La Giunta solliciterà i Comuni e quindi anche l'amministrazione comunale di Voghera a impegnarsi a regolamentare questa possibilità. So che in seguito alla vostra raccolta firme c'è stata anche un'ulteriore novità inaspettata, no? Sì, gli stessi genitori nel corso della nostra raccolta firme ci avevano segnalato delle critiche rispetto alla qualità del cibo offerto in mensa. Ecco, alla ripresa dell'attività didattica, dopo le feste natalizie, gli stessi genitori ci hanno segnalato che è stato introdotto un nuovo menù del cibo trasportato. E quindi insomma siamo convinti che questo risultato sia dovuto proprio alla nostra iniziativa. Ecco, un'iniziativa che si è basata principalmente proprio sulla raccolta firme, che è sicuramente una maniera importante per coinvolgere la cittadinanza. È possibile che questo sia uno dei metodi che adotterà Movimento 5 Stelle anche in futuro, quando in un qualche modo sposerà altre cause e altri disagi? Certamente, anche per altri temi seguiremo questo metodo della raccolta firme che insomma siamo contenti di vedere, porta i cittadini a interessarsi, li coinvolge e quindi insomma per noi la partecipazione è sempre molto importante. Fabio Aquilini che è stato candidato sindaco con l'Italia del Rispetto, leader di questo Movimento Civico, è sicuramente molto vicino ai problemi della cittadinanza attraverso le numerose raccolte firme che insieme al PD ha organizzato e alle quali è stato ovviamente presente. Come la vede una collaborazione tra i 5 Stelle di Voghera e Fabio Aquilini? Noi come Movimento 5 Stelle rispettiamo le posizioni di tutti, rispettiamo le iniziative di tutti, ma noi come tutti sanno camminiamo con le nostre gambe e quindi insomma andiamo avanti da soli. Ovviamente siamo contenti se anche altri esponenti politici come Fabio Aquilini insomma seguono la nostra strada.